Cari amici di calciomercato.com, ricordate quando cinque anni fa De Laurentiis disse sono io il vostro Cavani, ai tifosi che richiedevano, era l'estate di Cristiano Ronaldo alla Juventus, di acquistare un colpo, di fare un colpo, di riprendere e di portare a casa il Matador Edinson Cavani insomma per replicare al colpo della Juventus. Ecco mi sembra la stessa situazione. De Laurentiis sta per dire, sicuramente l'ha già pensato, sono io il vostro Spalletti. Lo sta dicendo ai tifosi che tutto sommato se lo sono immaginato, ai giocatori che chissà come reagiranno e l'ha già detto a se stesso. C'è tutto un filo conduttore, c'è tutta una logica nel comportamento di Aurelio De Laurentiis. In fondo quando lui nelle interviste successive alla festa Scudetto, al titolo, al tricolore che torna a Napoli dopo 33 anni dice è arrivato questo Scudetto ma perché ne sono stati sottratti illecitamente tolti due o tre in passato? E lui certifica il fatto che avrebbe vinto anche in passato non solo con Spalletti o con Osimen Bomber e con Di Lorenzo Capitano ma avrebbe vinto anche con un altro allenatore e con un altro centravanti e un altro capitano. Questo vuole intende. Nel momento in cui lui dice l'UEFA ci ha fatto fuori perché io sto antipatico all'UEFA perché sono un innovatore lui certifica il fatto che la squadra ha perso con il Milan solo e soltanto per l'arbitro, per gli errori, per un complotto dell'UEFA non per altro e quindi basta che viene risolto il complotto e viene vinta la battaglia contro l'UEFA e il Napoli può vincere anche con un altro allenatore, con un altro Osimen e con un altro direttore sportivo. Questo è De Laurentiis, viene in mente il famoso Alberto Sordi, il Marchese del Grillo, un film che i giovani non ne ricordano io lo so io e voi puntini di sospensione. In tutto questo lui dice queste cose e non c'è nessuna replica perché non replica alla storia degli scudetti illecitamente sottratti, non replica né la federazione né la Lega l'UEFA, non c'è nessuno praticamente che obiettivi, si guarda De Laurentiis, il presidente forse non è proprio così tra i giornalisti, tra gli opinionisti, c'è la grande festa del Napoli, tutti a dire, a riportare, ha detto così e allora va bene e lui è naturale che pensa che dunque è un produttore cinematografico che fa un grande film, produce un grande film ma ci mette il regista che gli para a lui, l'attore che gli para a lui, l'attore non protagonista gli para a lui magari sceglie anche perfino le comparse. Il film è suo, la squadra è sua, il Napoli è suo e finora gli è sempre andata bene perché è stato proprio così e forse ho anche un modo di ragionare che ci sta, è un uomo che ha delle intuizioni è un uomo che sa far tornare i conti, è un uomo per il quale valgono due regole la prima è non è importante chi vende, è importante chi acquisti, non è importante chi va via ma è importante come lo sostituisci e l'altra è vendo a tanto e compra a poco che è la regola del commercio e nessuno gli dice niente, vuol dire che va bene così, ci vorrà come al solito uno che dice una cosa fuori dal coro un po' controcorrente, ecco secondo me sbaglia, con Spalletti sbaglia, non lo dico per fare il teorico della tecnica della tattica, le strategie, il gioco offensivo, no, su Spalletti sbaglia perché l'impressione mia, visto da lontano è che Spalletti sia un uomo pieno di difetti, è ombroso, è un caratteraccio, delle volte è silenzioso, delle volte parla l'ogorroico che non lo fermi più, non si capisce tanto bene quello che parla, insomma è pieno di difetti con quelle catene poi e l'allenatore bravo, magari non sarà il top ma è comunque di altissimo livello ma a me sembra che manchi qualcosa senza Spalletti al Napoli e non è soltanto e di questo deve stare attento De Laurentiis e non è soltanto per quell'abbraccio con Di Lorenzo Ciao